Devo dire che ho fatto aspettare tantissimo le persone che mi hanno sempre seguito, ma so che capiranno e quando ascolteranno il disco sicuramente capiranno ancora di più. Ho avuto bisogno di staccarmi da quello che era poi la routine del mio lavoro, perché venivo da tre anni di lavoro molto intenso e ero un po' scarico, quindi sono dovuto andare alla ricerca, sono dovuto partire, prendere i miei aerei, sorvolare per più volte l'Atlantico e quindi da questo sicuramente deriva anche il titolo dell'album. Avevo voglia di scoprire delle cose che avevo lasciato ancora in dubbio, dovevo ricercare in alcune tradizioni musicali delle cose che poi mi sarebbero servite per il nuovo disco e avevo bisogno di stare un po' da solo, ho bisogno di autoanalizzarmi e analizzare e riflettere su alcune cose, perché una delle parole più importanti che posso usare per descrivere questo disco è lentezza e la bellezza di assaporare ovviamente tutte le emozioni che ci vengono dalle esperienze che facciamo nella nostra vita. Mi sentivo che tutto mi stava scorrendo sotto le mani e che io non avevo il coraggio e il tempo di vivermi fino in fondo, quindi volevo vivere tanto quanto la gioia, anche la tristezza, la malinconia e sono andato alla ricerca di questo. Sì, per non farci mancare niente ovviamente per il lancio di questo disco ho scelto un modo poco canonico e standard. Volevo condividere, volevo condividere tutto quello che io ho vissuto e tutte le esperienze che ho vissuto, tutti i colori che ho visto e le sensazioni che ho provato e volevo mettere all'interno di un contenitore che racchiudesse tutto questo. Mi sono fatto aiutare ovviamente a appoggiare da arti diverse, perché in questo festival ci saranno tanti artisti che si esibiranno e cercheranno ovviamente di descrivere quali erano e quali sono state le sensazioni che mi hanno portato a scrivere determinate cose. Ci saranno dei miei colleghi che si esibiranno, ci sarà arte, pittura, fotografia, danza, abbiamo preso tutti i colori dell'arte possibile e immaginabili. E tutto questo perché secondo me c'è bisogno comunque di esperienza, di far vivere un'esperienza alle persone che ovviamente oggi nel 2019 ascoltano la musica. Inizierà il tour a fine aprile, andrà avanti per maggio, per tutto maggio, e non vedo l'ora anche perché avrò un calendario molto fitto e quindi potrò condividere tantissimo in tutte quelle date che faremo.